No, invece proprio per questo te ce devi mettere. Che fai? Aspetti che ti ricoverano l'ospedale con tumore ai polmoni? O che te devono fare una tracheotomia? Ecco, guarda, fai una cosa, Gioia Masso, come si combatte la forza di volontà? Ti do adesso il mezzo. Tu che dici che hai paura di cosa? Ok, vai nella sezione oncologica della tua città, vai al tuo ospedale e vai nella sezione oncologica e vai a trovare i malati. E gli vai a chiedere che cosa c'hanno. Parla un po' con i malati di tumore, soprattutto quelli in fase terminale, o quando li vedi qua con un buco in gola, chiedigli come mai ce l'hanno. Se hai la fortuna di trovare qualcuno che ha la tracheotomia o qualcuno che sta morendo con un cancro ai polmoni, magari parla con questo morente e gli dici qua, e falla a lui questa domanda. Gli dici, guarda, io sto fumando e non riesco a trovare la forza di volontà di smettere. Vedi che cosa ti dice lui.